I servizi che ci mette a disposizione Medtronic secondo me nella gestione del paziente diabetico sono fondamentali intanto perché possono essere dal punto di vista diciamo del diabetologo sicuramente la possibilità di avere a disposizione i dati del paziente in tempo reale, la possibilità di mettere insieme i dati di più pazienti per studiare delle popolazioni specifiche e invece dal lato del paziente la possibilità di interagire attraverso le app, attraverso strumenti di comunicazione e anche di educazione terapeutica. Molto importante avere il supporto aziendale e Medtronic è molto presente nel supporto sia ai pazienti con un servizio disponibile 24 ore su 24 o 365 giorni all'anno e anche per noi operatori sanitari è sempre disponibile nell'aggiornamento. Possiamo disporre delle migliori soluzioni tecnologiche possibili ma se non vi è un servizio di assistenza aftermarket così come un servizio di supporto per tutte quelle che possono essere le problematiche tecniche e quindi non solo mediche dopo la prescrizione di una determinata tecnologia questa stessa tecnologia perde di valore. Medtronic in questo senso offre il massimo supporto la massima educazione a tutti i pazienti con cui si trova ad avere a che fare e collaborare. Abbiamo anche molti pazienti che sono seguiti a distanza, questo è stato implementato in maniera devo dire forzata durante l'esperienza del Covid ma poi è rimasta diciamo un'esperienza del nostro centro. Alcuni pazienti hanno per esempio la possibilità di essere formati al calcolo dei carboidrati da remoto senza doversi necessariamente recare fisicamente presso l'ambulatorio così come la terapia può essere rivista e ottimizzata attraverso una visita effettuata da remoto in modalità telematica. È importante l'affidabilità, il fatto che il paziente abbia delle persone in sostegno ovviamente H24 e 7 giorni su 7 e di supporto nella gestione della tecnologia e che ovviamente tutto questo si rifletta in un'adeguata preparazione dei professionisti sanitari che vanno a gestire la glicemia in questa tipologia di paziente con diabete di tipo 1. Tra i vari servizi che l'azienda offre preziosissimo il ruolo degli specialist che come appunto già detto ci supportano è molto interessante anche il servizio di digital che ho da poco iniziato ad utilizzare perché in effetti ci permette di snellire molto il lavoro nella nostra pratica quotidiana andando a fornire quel supporto tecnico da remoto per ridurre anche i tempi di attesa di accesso allo sportello serotonologico.